La confessione. Solo che lui ha successo. Più degli altri. Ed è in questo che è geniale. Allora, perché vi pubblicate il nuovo romanzo? Perché avrà successo. Ed è la cosa che purtroppo ha più importanza. Quella Barbara Leone, cosa dice nella fuga del suo amante? Barbara è splendida, eccezionale. Una donna delicata, intelligente, che ha fatto una scelta per la quale sta sacrificando molto. Tutto. Su questo non ho dubbi, conoscendo Gabriele. Tieni, per l'affitto. Quando ti rivedrò? E chi può dirlo? Ogni sera c'è una processione di gente che vuole conoscere il genio. E poiché è quasi sempre a casa nostra, è un po' difficile muoversi. Una sera verrò anch'io, d'accordo? D'accordo. Tanto con Matilde non ci sono problemi. Di noi sa tutto. Ciao. Ciao. Grazie.